Un carico di circa una tonnellata di marijuana è stato sequestrato dalla polizia di Manfredonia in una villa in costruzione nella cittadina di Peschici, nel Foggiano. Il figlio del proprietario dell'immobile, Raffaele De Noia, di 21 anni, con piccoli precedenti penali e ritenuto vicino ad una famiglia malavitosa del luogo, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con persone ancora da identificare. Secondo le indagini, la marijuana sarebbe giunta sul Gargano via Mare. La polizia, infatti, monitorava da tempo gli affari che stavano maturando tra le famiglie malavitose del territorio garganico e i trafficanti di droga albanisi. Il giovane, finito agli arresti, ha tentato di discolparsi, dichiarando di non sapere nulla della droga presente nella sua villa e di aver trascorso gli ultimi giorni fuori città, precisamente ad Andrea, dove avrebbe partecipato al funerale di un suo amico Matteo De Gennaro, ucciso sabato notte con un colpo di pistola davanti alla stazione ferroviaria di Biceglie. Un alibi che non ha retto agli accertamenti successivi della polizia, che ora è sulle tracce di altre due persone, forse di origine albanese, presenti nella villa al momento dell'irruzione, ma riuscite a dileguarsi prima della cattura.